Bentornato su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Grazie di cuore. Non ci raccontate che l'Europa esiste. L'Europa non esiste. Tanto è vero che la Germania non vuole fare alcuna sanzione perché crollerebbe l'economia tedesca. Ma non lo dico io. Lo dice la Confindustria e lo dicono i sindacati tedeschi. Quindi per favore non ci venite a raccontare una storia che non esiste. In questa guerra muoiono gli ucraini e muoiono i russi. Non muore nessun altro. Gli 800 milioni che dà il signor Biden per comprare le armi fanno ridere oggi Zelensky al Fondo Monetario Internazionale. Sa cosa ha detto? Che servono per tenere in piedi l'Ucraina 7 miliardi al mese. Chi glieli dà? Lei? Glieli dà? Glieli danno gli italiani? Decidiamo d'ora innanzi che risparmiando sul calorifero e sul condizionatore diamo i soldi agli ucraini? Ma di che cosa state parlando? Voi non sapete nulla e parlate facendo retorica tutti i giorni. Ma state zitti che ci sono dei morti e li mandate a morire.